Quella che vedi nel porto è la corazzata italiana premium di livello 8 Roma, mi raccomando se questi contenuti sono di tuo interesse come sempre iscriviti al canale e in descrizione trovi anche il link per scaricare World Warships gratuitamente con alcuni vantaggi. Allora andiamo a vedere subito le caratteristiche della Roma come sempre partendo dall'inizio, resistenza 65.400 punti di vita, protezione siluro, riduzione danno 38%, cannoli a 381, gittata 18.1, ricarica 30, danno a HE 5.100, danno a P 12.000. Non abbiamo SAP né tantomeno il fumo, possiamo portare con noi il velivolo da ricognizione oppure il caccia e una semplice squadra di riparazione con squadra controllo danni, niente fumo. Incursione aerea per i sommergibili arriviamo fino esattamente a 10 km, difesa contraria a valore di 70, gittata massima 4.6 standard per le navi italiane, mimetizzazione 11.7. Per quanto riguarda i potenziamenti, sistema di mimetizzazione modificato 1, controllo danni modificato 2, dispersione, sistema controllo danni modificato 1 e poi qui sinceramente ho messo controllo danni modificato 1, fa salire la riparazione a 15.4 anziché 10 o 11 ora non ricordo bene, potreste decidere di mettere anche l'armamento principale modificato 1 oppure il velivolo da ricognizione modificato 1 più 30%. Luigi Sanzonetti, il comandante obbligatorio speciale, andiamo a mettere quindi specialista delle riparazioni in emergenza, esperto in difesa contraria e antisommergibile. Nave settata particolarmente sulla sopravvivenza, nozioni di base, scarica di adrenalina consumabile in più per quanto riguarda la riparazione, mimetismo ulteriore altrimenti la nave verrà spottata a 13 km, sì potreste giocarla a 13 km, risparmiare 4 punti skill e metterle magari, non so, su bersaglio prioritario se siete abituati oppure su vigilanza o quello che preferite. Esperto poi di prevenzione incendi. Ragazzi questa è la Roma, ovviamente abbiamo anche la mimetica, le Jolly Rogers, non possono mancare mimetica standard predefinita, potrei anche acquistare questa da 5.000 dobloni, è bella però abbiamo insomma sto coso sopra che rovina un po' il tutto. Ci sono tante cose da dire per quanto riguarda la Roma? Gameplay. Andiamo a vedere una partita con la nostra corazzata Roma, ci sono tante cose da dire e quindi cercherò come sempre di farmi bastare il tempo che ho a disposizione. Il matchmaking, analizziamolo, due sommergibili, tre cacciatori perinieri, un solo incrociatore, una portaerei e poi attenzione dall'altra parte hanno due Nebraska. Trovate il gameplay disponibile della corazzata ibrida americana già disponibile appunto sul mio canale. Cosa dobbiamo dire? Allora in realtà le cose da dire sì sono tante ma sono anche ragionamenti un po' intrecciati con altre navi italiane. Come ho detto all'inizio non abbiamo la possibilità di utilizzare il fumo su questa nave quindi saremo particolarmente soggetti a dover comunque sia pronteggiare quello che abbiamo davanti. Non è che metti il fumo, giri o indietreggi e te ne vai, non puoi farlo. Non avete il fumo quindi questa è già una cosa da tenere a mente quando utilizzate questa nave. Ragion per cui venire spottati a 11,70 rispetto a 13 km sono comunque sia e quel km e 300 metri che può fare la differenza tra ricevere fuoco e appunto riuscire ad andare invisibili. La nave ho preferito settarla tutta a tank anche se devo dire la verità mettere la propulsione come potenziamento potrebbe essere anche una scelta doverosa perché senza potenziamento vedete la nave fa un po' di fatica a raggiungere la velocità massima e unendomi al discorso che stavo facendo prima se dovete scappare oppure dovete pushare potreste avere qualche problema quindi valutate appunto cosa andare a mettere. Per quanto riguarda i cannoni sono dei 381 non dei 406 cosa molto molto importante i 381 potranno rimbalzare su diverse navi 406 invece possono garantire una penetrazione come ideale contro diverse contro diversi... non mi viene il termine con diverse... è incredibile non mi stanno vedendo le parole ci sto pensando con le diverse corazzature degli incrociatori e delle corazzate nemiche non mi veniva... la corazzatura non mi stava vedendo il termine i 381 fanno molta più fatica spariamo ogni 30 secondi 30 secondi tutto sommato è un tempo standard ok per quanto riguarda la gittata è una nave che sicuramente sulla lunghissima distanza soffre particolarmente ragion per cui ripeto ancora una volta l'utilizzo dell'aereo fighter si e dell'aereo spottino è utile però fino a un certo punto ecco perché ho messo la riparazione più lunga l'aereo spottino si può darvi quella possibilità di sparare sulla lunga distanza però ripeto è una nave che personalmente mi piace buttare abbastanza vicino all'azione non troppo lontano se devo sparare da 20 km, da 25 km scelgo un'altra nave non scelgo la Roma stiamo facendo un movimento particolare vi voglio attirare subito la vostra attenzione perché stiamo andando vagamente centrali contro il settore di Bravo? semplicemente perché loro, guardate la posizione dei nemici hanno due corazzate in C1 fermo là altre corazzate, una sta in E10 e altre due sono impegnate in D8 quindi per quanto mi riguarda si apre letteralmente una una possibilità di pushata che intendo cogliere il prima possibile abbiamo sparato nuovamente all'incrociatore di livello 6 inglese che andiamo a mancare lo abbiamo mancato, questo sembrava un colpo abbastanza semplice però in realtà lo manchiamo clamorosamente quindi figuratevi a sparare a 25 km, 20 km quello che è rimaniamo nel medio corto raggio poi se lo prende il sommergibile e siamo tutti felici qui inizia un pochino la situazione complicata voi direte perché complicata? complicata perché loro hanno un sommergibile sul settore di Alpa che sta torpando e colpendo insieme alle due corazzate in C1 proprio hanno messo le radici in C1 e non intendono venirne fuori come vedete qui l'Agnese Nao va a soffrire terribilmente perché deve gestire cannoni, bombe e siluri non può e infatti verrà in qualche modo devastata dalla superiorità numerica nemica comunque sia noi cerchiamo di rimanere operativi con l'attacco contro il sommergibile chiamiamo delle cariche non sulla sua zona perché il sommergibile sta avanzando quindi date qualche metro di anticipo rispetto appunto alla direzione del sommergibile stesso la Sinop mette un pochino la testa avanti mette tutta potenza per cercare in qualche modo di non so a quel punto io penso che loro abbiano fatto il seguente ragionamento ovvero buttata giù la corazzata tedesca pensavano di poter passare senza troppi problemi invece poi spunto io dalle retrovie e la Sinop rimane un attimo della serie forse non è il caso di avanzare c'è sempre il sommergibile, vorrei far notare questa cosa c'è sempre il sommergibile sotto da qualche parte infatti sto cercando di dare un'occhiata per cercare appunto di vedere dei segni del sommergibile stesso a questo punto dobbiamo semplicemente si fa per dire cappare il settore di Alfa e poi andare verso le navi in C1 siamo un po' costretti ad andarle a cercare perché ripeto la situazione su Charlie sembrava abbastanza piacevole in realtà non lo è più di tanto perché vedo che stanno avanzando e anche piuttosto velocemente l'aerospottino, perché è uscito l'aerospottino? perché la gittata non è sufficiente? no, ovviamente per cercare di spottare il sommergibile nemico vi ricordo che l'aerospottino ovviamente farà un giro a 360 gradi rispetto alla vostra nave e avrà una distanza di circa 3 km quindi io vado a vedere sulla superficie del mare vedete? fino quasi a 3 km di distanza se il sommergibile sta là il mio aerospottino può spottarlo e quindi appunto avremo la posizione del sommergibile nemico lui tra l'altro si fa in qualche modo spottare quando la sagoma del sommergibile è rossa vuol dire che può essere attaccato cosa molto molto importante può essere attaccato dai cannoni quindi è a livello di superficie potete fare danno facciamo un colpo devastante perché lo andiamo a colpire poi le cariche comunque sia le avevo chiamate in maniera del tutto anticipate per essere ancora più sicuro cercate di distruggere il prima possibile il sommergibile senza paura, senza pietà lanciate le cariche attiro la vostra attenzione ancora una volta su quello che sta succedendo sul settore di cianni stanno spondando cittadena da 27,8 sul sinop abbiamo un cacciador peninieri è un sommergibile contro la portiere in B5 vedete cosa sta succedendo dobbiamo fare attenzione perché le portiere tedesche hanno un'ottima antiera poi qui la Kazuki tra l'altro sta torpando da dietro ci sono io della serie ma cosa stai facendo? io fossi in lui fossi la Kazuki in questa situazione specifica mi avvicinerei sull'isola esattamente che si trova davanti a noi e poi andrei a torpare le navi perché comunque sia io mi metto a contrasto delle due navi davanti a me e lui avrebbe tutto il tempo per poter torpare o comunque sia fare qualcosa di più di più interessante di più conveniente ai termini appunto di squadra abbiamo dei problemi con la portiere perché il sommergibile viene spottato vi ricordo che la portiere lancia in maniera del tutto automatica quelle che sono le difese contrarie per il sommergibile perdiamo il sommergibile il caccia d'orpeniere si sta mettendo nei guai nella maniera più assoluta avrò anche una parentesi avevo chiesto gentilmente al Nurberg esattamente l'incrociatore dietro di noi di utilizzare la ricerca hydrofonica proprio perché appunto si può spottare il sinop si poteva spottare il sinop rientrando nei 6 km della ricerca hydrofonica poi vabbè l'ha attivata con un po' di ritardo l'abbiamo spottato di prossimità va bene lo stesso sappiamo che qui ma era per vedere il movimento che cosa succede a questo punto abbiamo fatto un 13.000 prima loro stanno continuando ad avanzare su Charlie la partita sembrava se dite la verità sembrava che fosse su una come dire sotto controllo invece basta un non nulla per perdere è quello che è il vantaggio acquisito ora fate molta attenzione a questo passaggio perché poi c'è una storia all'interno della storia non solo la narrazione di questo gameplay ma anche quello che poi viene dopo che mi ha lasciato alquanto no perplesso mi ha fatto mi ha fatto pensare ed è stata una cosa piacevole però tempo al tempo ve lo dico dopo cosa succede in questa circostanza ora la tattica da fare da attuare in questa situazione è la seguente ovvero prima di tutto suggerisco ai nostri compagni dietro di sparare alla porta aerei io l'ho proprio scritto in chat ho detto cortesemente sparate alla porta aerei non pensate al Nebraska né al Sinop c'è la porta aerei pensiamo prima a quello perché io tra l'altro vedete io qui cerco in qualche modo dico vabbè se non sparate voi stavo puntando i cannoni per dare una mano perché non vedevo dei risultati abbiamo il Nebraska e il Sinop siamo 5 contro 5 loro hanno un sommergibile abbiamo una corazzata in G3 la Kazuki si fa prendere dalla Sinop si fa spottare la famosa Kazuki che poteva fare mille cose e non ne ha fatta una va benissimo lo stesso non è quello il punto il punto è che dobbiamo affrontare due corazzate abbiamo il supporto dell'incrociatore di livello 6 tedesco ovviamente qui siamo in una situazione di svantaggio di svantaggio per una per una serie di ragioni prima di tutto numerico due corazzate contro uno la Portere mi attacca la Nebraska mi attacca stiamo bruciando spariamo ogni 27 secondi saremo scesi va benissimo però sono colpi che ovviamente ci fanno particolarmente male 47 contro 29 cerchiamo di sparare ovviamente non alle torrette 7300 una viene danneggiata va benissimo così recuperiamo vita vorrei anche dire quella che è stata la giocata del Sinop perché in questa circostanza il Sinop che si trova in C1 comunque sia non sto capendo cosa sta facendo doveva semplicemente venire alle mie spalle è anche vero che il nostro incrociatore poteva lanciare le siluri quindi forse è stato frenato da quello o non ci ha pensato il Sinop non lo so infatti qui io mi stavo guardando a destra e guardavo dietro per capire un pochino la situazione a che punto eravamo perché lo scontro con il Nebraska ora che si è aggiunto anche l'incrociatore che ci sta dando una mano contro appunto la corazzata ibrida americana diventa un qualcosa di più fattibile non mi sarei mai aspettato di mettermi in questa situazione cioè io sono venuto qui perché pensavo appunto di risolverla in relativamente poco tempo non cercate il colpo sul Sinop semplicemente perché il colpo non passerebbe mai continuate in questa circostanza a sparare contro il Nebraska il bersaglio prioritario è lui loro perdono il Nebraska c'è da dire anche una cosa che loro non hanno più la porta aerei noi abbiamo la porta aerei la nostra porta aerei inizialmente stava giocando un po' così e poi invece si è ripresa e ancora più importante si è spostata e è andata a mettersi in H1 quindi noi sappiamo io so perfettamente che la nostra porta aerei è in una situazione di sicurezza totale anche se il nemico decidesse di andare ad attaccare dovrebbe comunque prima di tutto arrivare lì dietro parliamo almeno di 2-3 minuti di viaggio 2-3 minuti è finita la partita continuiamo a sparare vedete la Roma in questa circostanza proprio quello che voleva ovvero si mette a contrasto contro una corazzata ibrida e vi faccio vedere un pochino l'antiera che fa quel che può ovviamente lui in uno scontro così ravvicinato comunque sia riesce a droppare quando gli aerei arrivano comunque sia andiamo ad attivare quella skill ok e quindi in definitiva siamo in qualche modo anche avvantaggiati il sinop io ragazzi non ho capito la giocata del sinop ha avuto paura non sapeva quello che faceva ha ritenuto opportuno stare lì dietro e non fare niente non ho ben capito la situazione del sinop io ripeto fossi lui due cose pushata quando io sparo ricarico in 30 secondi male che vada ok scarica di adrenalina sparo in 25 secondi però hai l'opportunità di fare la pushata di accerchiarmi e di distruggermi invece non lo fa quindi calcolo quando il nemico va a sparare in questo caso il nemico sarei io fa la cosa più assurda ovvero esce nel momento in cui la nebraska viene distrutta io so perfettamente dove sparare risulta fin troppo semplice affondare la corazzata di livello 7 sovietica è stata una posizione sudata e non mi sarei mai aspettato che saremmo giunti a questo punto devo essere sincero mi congratulo anche con l'incrociatore che tra l'altro apro parentesi mi sono andato a congratulare in chat poi a fine partita nel porto ho detto hai giocato bene perché comunque sei un incrociatore di livello 6 eccetera eccetera e siamo stati letteralmente a parlare a scrivere in chat non voglio esagerare ma forse un'ora abbondante perché poi da un argomento siamo passati a un altro abbiamo parlato insomma un pochino di quello che facciamo in generale come ci chiamiamo dove viviamo queste cose qui quindi è stato anche abbastanza interessante sentire una persona che abita praticamente dall'altra parte del mondo ok quindi si è creata anche questa piccola cosa che è stata piuttosto piacevole non sempre succedono queste cose però insomma quando succedono fa piacere raccontarle cosa dobbiamo fare siamo in un 3 contro 2 tra l'altro l'incrociatore sapeva quello che stava facendo perché al netto della ricerca trofonica che poteva mettere prima però non parliamo di sottigliez magari anche giocatori con più esperienza non pensano di mettere la ricerca trofonica perché comunque sia io devo vedere se posso vedere anche due secondi prima il movimento dell'avversario devo vederlo perché mi regolo se lui va indietro faccio un movimento se va avanti ne faccio un altro è ovvio dobbiamo andare sul settore di bravo chi c'è su bravo ovviamente il sommergibile perché la corazzata sta esattamente in H7 è rimasto il sommergibile il sommergibile sta cappando bravo ora noi non possiamo più recuperare le vite però dobbiamo sicuramente andare la partita abbiamo un vantaggio importante al netto di tutto abbiamo 400 punti di vantaggio e mancano 4 minuti alla fine della partita il sommergibile sta su bravo lo ripeto ancora una volta e poi la corazzata in H7 che si trova appunto abbastanza lontana anche dal cap comunque sia noi andiamo non andiamo a destra qui focus sul cap infatti qui a un certo punto vado anche a mettere quello che è appunto ecco mi ricordo tutto l'attacco del sommergibile perché cercavo di capire appunto di volevo casomai lui avesse fatto un ping iniziavo a capire più o meno dove si trovava e poi nell'avvicinarmi l'avrei attaccato cos'altro dobbiamo dire abbiamo visto l'antiaerea sparare fino a un certo punto 4.6 manteniamo standard la gittata standard dell'antiaerea 4.6 rispetto a tutte le italiane qui si mi stavo un po' incasinando con i tasti all'ultimo tra l'altro piccolo spoiler devo cambiare la tastiera perché non mi funziona più a dovere c'è il tasto W che insomma non funziona bene letteralmente consumato e anche il tasto invio fa un po' di fatica appunto a premersi e quindi penso che sia essendo una tastiera meccanica penso che sia arrivata il momento insomma di cambiarle quindi sto valutando appunto l'acquisto di una tastiera diversa qualcosa di semplice non è che spendo 100 euro per una tastiera ecco vorrei arrivare a quel punto anche perché andrebbe in conflitto con quello che dico nel mio secondo canale se siete curiosi se siete giunti fino a questo punto date un'occhiata al mio secondo canale perché magari trovate qualcosa di interessante e perché no qualcosa che non conoscete trovate il link in descrizione nel banner un po' ovunque canale personale di Davy dove parliamo no parliamo cose diverse rispetto ai giochi andiamo grosso calibro ok subito attenzione al sommergibile noi sappiamo perfettamente dove è una situazione abbastanza facile da gestire ci ha fatto un ping ho aspettato un po' per levare il primo ping perché pensavo che appunto mi avrebbe agganciato due volte vedete qui un piccolo errore in questa situazione ovvero mi deconcentro perché dovevo lasciare prima di tutto il settore bloccato sulla corazzata non lo faccio infatti poi quando vado a puntare al sommergibile mi ritrovo i cannoni spostati e perdo un attimo la possibilità di fare un altro kill il sommergibile tra l'altro poi l'ho chiamato senza mirino perfetto insomma un po' di confusione nel finale però va benissimo così il sommergibile può fare due cose o va indietro in retromarcia oppure sta andando in avanti quindi sta venendo contro di noi può fare solo due cose dubito che vada a sinistra potrebbe anche farlo ma non avrebbe senso la partita sia comunque sarebbe persa a prescindere andiamo a chiamare le cariche per cercare io non lo vedo non so dove sto andando a tentativi poi mi spunta dietro vedo il segnalino immediatamente lui è costretto ad uscire subito con la torretta di prua di poppa scusate e facciamo una kill torniamo nel porto per le considerazioni finali partita secondo me molto bella essendo la Roma una corazzata premium ma in generale una nave premium utilizzo sempre i bonus blu per moltiplicare il più possibile tutto quello che vado a ricevere è stata una partita davvero ben giocata mi sono divertito tantissimo ragazzi video terminato io come sempre vi ringrazio per like i commenti e le visualizzazioni e noi come sempre ci vediamo con un prossimo gameplay ciao 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 Grazie per la visione